Oh, non mi senti lì, solo a me mi senti lì, ma dove sono sovremobili? Ah, povera me! Grazie a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Noi vedeteci un po'. Chi le vuoi? E chi le vuoi? Io mi ci metto senza che tu me le dici. Questa è la mia presenza. Ma se vi piace mi chiede se no. Solo io, eh! A presto niente più. Luciano! Chi è che lo metti? Mi fa male l'amore della panza. Ah, Maria, manca la busta che riesca a quel male. Chi è che ci dice? Chi è che ti ha con manna? Ecco qua, aspetta, aspetta. E come comincia? Che devo dire io? Allora, facciamo così. Eh, allora, devo trovare... che ne so io? Vabbè! Perché mi stavo incantando! Che cosa dice? Diamo le reti, che cosa dice? Porta ancora la macchina. Se noi le reti vediamo, non lo vado a prendere. Da qua! Che puzza da me? Allè? 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 Lui stiamo a lavorare. E qui ti vogliamo? Guarda qui! Mi piacciono. Mi piace tanto. Eh... Attimo. Ok. So contenta. Mi ha fatto il nome di te. Eh, eh... Diciamo... Che... Aspetta. Con te la girà! Si girate la conci. Si, si girate la conci. Sono girate la conci. E stengo in questa compagnia. Va bene. Ah, beh! Sapete quanto è nata in? No, mi trovo. Qui ci dai tutto da qua. Sì, sì, dai. Ciao a tutti! Tutti qui erano. Tutti qui erano. Tutti qui erano. Sono Caravaggio e Ninitta. Che... Che mamma mi comenta un bruglio. Sessanta cinque... Sessanta... Ma è che mamma mi sono bruglata un'altra volta. Allora? Non è già santa. Eh, Rita! Io mi tengo un bruglio! Ma no! Questi signori devono entrare niente come cosa. Mi sono dimenticato. Allora, ricominciamo dalla grande gioia. Ah, 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 ah! Ah, no. Ne va poco. Parto? Sì. Benissimo. Voi, dopo del treato che ha fatto? Salute a tutti. Sono Maria Memme. E' 83 anni. Ma non so sbagliato. Guarda. La città, la città, la città, la città, la città. No, ora mi sono sbagliata. Ma non so sbagliato. Ma non può. Dai, dai, dai. Perché ha bisogno di un bambino in canna. Non è un bambino in canna. E' un bambino in canna. Che come fai una prima cosa? Non bambino in canna. Non me l'hai detto questo. In compagnia. Approfitto. All'eserph, no, all'eserph, no. All'eserph … Ma no, non va bene. Istrutta , istruita, va bene? eh no ho sbagliato questo aspetta se si mette una dietro me lo dici basta così